Sono molto lieto ad aver partecipato a questa sessione dei dialoghi italo-francesi e perché il partenariato italo-francese, specialmente per quanto riguarda Leonardo, è un atto necessario per l'Europa, è necessario per l'Italia, è necessario per la Francia. Con la Francia noi abbiamo una serie di collaborazioni in atto che sono estremamente proficue per entrambi i Paesi e a cui vorremmo aggiungere terze parti, proprio nello spirito che anima questi colloqui, cioè il rapporto italo-francese per l'Europa. Grazie.